ciao a tutte e bentornate sul mio canale benvenute le nuove iscritte oggi un video diverso dal solito quindi mettetevi comode per guardarlo tutto vi mostro alcuni capi di abbigliamento che l'azienda zappul e mi ha inviato da mostrare appunto alle mie follower e quindi oggi proveremo insieme questi queste cose che ho scelto diciamo anche in base ai miei gusti personali quindi quello che vedrete chiaramente è qualcosa che ho voluto scegliere proprio per adattare al mio stile di abbigliamento quindi continuate a guardare il video allora innanzitutto tutte queste cose che mi sono arrivate mi sono arrivata attraverso questa busta che devo dire molto carina e si può anche riutilizzare perché di plastica allora partiamo subito col primo capo intanto ve li faccio vedere così poi dopo ve le faccio vi faccio vedere tutto indossato il primo maglione che ho scelto perché dovete sapere che io ho preso già praticamente le cose autunnali e invernali considerate che ormai siamo nella stagione tra poco quella fredda quindi ho voluto proprio prendere questo tipo di abbigliamento allora il primo è questo maglione fatto in questo modo questo devo dire che è molto molto carino per la stagione autunnale infatti non è né leggero e né pesante è una specie di lanetta leggera però devo dire che a me è piaciuto proprio la forma del colore sapete che io amo il colore nero però ho voluto prendere qualcosa di diverso dal solito colore che utilizzo quindi guardate qui questo bellissimo maglione questo qui è corto quindi potete metterlo semplicemente con i jeans sapete quelli che si usavano negli anni 90 che sono i jeans quelli monfit ecco potete utilizzarlo direttamente in questo modo poi ho preso una felpa guardate questa qua che bella chiaramente c'è sempre il richiamo nero mi è piaciuto proprio il tipo di disegno che c'è qui un po leopardato si dice così non lo so comunque devo dire che è molto bella questa qui comunque adesso vi faccio vedere tutto indossato anche per vedere se in realtà mi stanno veramente bene addosso poi andiamo a questo maglione che avevo scelto e questo qui è bianco è sempre un po corto quindi in realtà andrebbe bene con quei pantaloni appunto che ho detto prima oppure con una semplice tuta di sotto comunque devo provarlo e vedere come mi sta andiamo sempre sul capo di abbigliamento pesante quindi ho scelto questo maglione che chiaramente andrà utilizzare in inverno e mi è piaciuto anche qua la composizione dei colori quindi è veramente molto bello questo qui per esempio io non amo tanto prendere maglioni che siano stretti insomma devono essere anche un po larghi che non mi facciano tanto le forme perché non non mi piacciono almeno sul mio corpo l'ultimo capo di abbigliamento è sempre qualcosa di pesante da utilizzare in inverno e ho preso questa felpa che è proprio molto morbida ha proprio a fa proprio quell'effetto di freddo invernale è fatta in questo modo e con la scritta california west coast e questa adesso provo tutti i capi insieme a voi mi dimenticavo l'ultimo capo e questo vestito che ho preso questo qua è proprio autunnale infatti da utilizzare in questo periodo però è stato il primo vestito che ho visto devo dire che è molto largo perché ho preso una m convinta che fosse piccola la s però adesso lo provo e vi saprò dire però ad occhio è un po è un po grande per me comunque è molto bello come vestito non in caso hanno diverse taglie allora il primo capo che ho scelto di indossare questa felpa che veramente in inverno sicuramente dovrà tenere molto caldo è fatta così ed è veramente molto bella questa è ottima per la per la mia conformità fisica quindi io ho preso una taglia unica mi sa comunque questa è la prima maglia poi abbiamo quest'altra maglia devo dire che abbastanza confortevole si può anche utilizzare con un leggin se volete quindi porta così non è né stretta né tanto larga quindi secondo me è giusta poi abbiamo questa che è quella diciamo che mi è piaciuta di più proprio anche come composizione di colori non è molto lunga né tanto corta questa sicuramente la utilizzerò con i jeans e devo dire che la taglia è perfetta quindi poi ragazzi abbiamo questa qua questa qua fucsia devo dire che il colore è bellissimo però pensavo che fosse più lunga e quindi adattabile al mio corpo invece è risultata abbastanza corta come potete vedere però se a voi vi piace questo stile potete utilizzarlo con quei pantaloni che vi ho detto prima però per me è no perché cioè non mi piace tanto ecco anche questa non non mi sta bene vi dico la verità perché comunque devo recensire quello che mi inviano è risultata troppo corta qui e è larga qui non non mi piace tanto ecco dal sito sembravano più lungo e quindi per questo le avevo scelte ma in realtà dal vivo non è la stessa cosa qui la felpa e questa è anche molto bella la felpa è promossa perché mi sta veramente bene quindi potete metterlo anche sia con un jeans che con un leggings e guardate è proprio bella il vestito è questo qua devo dire che non è niente male però dovevo secondo me prendere la S invece ho preso la M vi faccio vedere adesso il sotto è abbastanza lungo perché arriva proprio sulle ginocchia è fatto così allora amiche questi sono stati tutti i capi di abbigliamento che questa azienda mi ha offerto per mostrarvi e alcuni capi come ho detto mi sono piaciuti altri non mi stavano bene e comunque vi lascio tutto qua sotto avete il 18 per cento di sconto per il vostro importo insomma in base a quello che spendete all'interno del sito avrete questo sconto e vi lascio anche il link di tutti questi prodotti che vi ho mostrato magari se ve ne piace qualcuno lo volete comprare andate direttamente con il link quindi grazie per aver guardato ci vediamo un prossimo video e vi raccomando se vi fa piacere iscrivetevi lasciatemi un like e un commento e ci vediamo alla prossima ciao ciao